buongiorno buongiorno allora tanto state calmi con le canzoni state calmi non si può non si può adesso mettere una canzone che tutti mi fa cagare buoni eh buoni vi metto la merda poi mi metto se non state tranquilli vi metto la dark polo gang e faccio partire il pre live un'ora prima capito buoni tranquilli e quindi per cortesia state molto tranquilli molto attenti no no le minacce ci sono e sono reali e che cos'è calmissimi poi chiedo ai moderatori gentilmente di farmi questo favore di condividere ogni tanto il link quello che ho messo stand alone e il messaggio che ha che ha condiviso in video intanto aspetta che ringrazio daniele dio uno che dice siamo siamo a sei vala grazie mille vado a leggere brevemente il messaggio che ci ha chiesto in video di spammare poi il link quello lì per la scheda video è molto importante mi hanno detto e condivideremo quello visto che questo è una live placement e io dovevo mettere anche l'immagine in alto e io non l'ho mica messa l'immagine in alto vedi perché sono un bigolo aspetta invidi ecco qua eh e no c'è un errore di fondo aspettate perché purtroppo purtroppo ci sono stati un po di problemi anche perché stamattina dovevamo essere in tre siamo in due però uno è morto no no ci sono io ci sono io e non funziona più niente però non funzioni tu più che altro che mi preoccupa quello ma non funziona più una mazza a poster vedi invidia allora la la beta per pc di destiny 2 permetterà di giocare la missione della storia della campagna di apertura di destiny 2 che è quello tra l'altro che abbiamo anche giocato nella scorsa beta se non sbaglio homecoming la strike cop in team inverted spire e un multiplayer competitivo con due diverse mappe tra quelli l'edita mappa javeline meno 4 la conosci la javeline meno 4? si è quella la javeline di default però meno 4 cazzo ti vedo espertissimo di destiny complimenti si vede che hai giocato l'uno in termini di esperienza pc la versione beta consiglia di giocare su pc geforce in 4k purtroppo non c'è un monitor però c'è una 1080 eh mica cazzi con framerate sbloccati si scrive framerati framerate sbloccati impostazioni grafiche regolabili incluso il fov che è la cosa che ho cambiato subito supporto per il monitor in 21 nonni che non so ancora se sia ficcante o no per giocare e supporto hdr anche quello mi interessa già di più se si risponde di monitor tipo compatibile configurazione in slide compatibilità con geforce experience infatti come avevo detto inoltre fino al 5 settembre destiny 2 sarà in bundle con la 1080 se vi interessa comprare una 1080 vi danno anche destiny 2 proprio lì così te lo scrivono ti scrivono il codice sulla scheda video proprio con il pennarello uniposco eh sì e ringraziamo nel frattempo eh chi è nadir finalmente siamo a 4 mesi inizia già a vedersi la pancia eh rocce ben ben raun e siamo a 4 ficcanzi in abbondanza castilorenzo e niente manco da un po' di mesi mi ritrovo con la valeria rossi bondi gattaus e trollface che dice salve gatto con un caldo bestiale qui da roma potrei dire che finalmente posso abbronzare grazie a tutti grazie a tutti sì oggi siamo team marchi marco e marco non so se marco ha ancora risolto i suoi problemi assolutamente no perché c'è un piccolo problema lo possiamo dire credo è un problema purtroppo della beta di destiny chissà perché ogni volta che ci danno un anteprima o qualcosa c'ha c'ha qualche problema abbiamo avuto problemi anche con cos'era gears ti ricordi? eri tu con gears abbiamo avuto problemi anche lì ti ricordo di giocare assieme comunque marco deve giocare il prologo per poter giocare insieme a me purtroppo il prologo è una certa diceva in mona e lo disconnette allo stesso punto non funziona ma a tutti eh quindi non è un problema di marco non sono già state provate varie cose quindi io gli ho consigliato di farsi un sonno visto che sta vedendo come si dice cosa c'è la cataratta non lo so non vedo una mazza stamattina sono tutti gli occhi lucidi sono sempre commosso stamattina vi voglio proporre una nuova merendina che ho visto in offerta al supermercato ho detto cazzo la lascio lì e no era in offerta al 50% allora l'ho comprata e si tratta di una merendina che noi conosciamo già vero marco pane più cioccolato pane più cioccolato te la ricordi eh te la ricordi te la ricordi ce l'hanno portata in abbondanza magari qualcuno che mi segue da un po' meno non la conosce eccola qui la marca è Murino Bianco che per chi non lo sapesse è prodotto da Barilla la stessa che fa la pasta che non scuoce sono 37,5 grammi la sede è a Parma in via Mantua 166 ma come a Parma in via Mantua? effettivamente è un po' un problema però ah si mi ricordo e niente gatto qua neanche mi parte più il problema è un prologo ormai sta andando sempre peggio per un po' non mi si avvia il gioco Makuyasha quattro mesi e si continua e airman maledizione che c'ha l'h prima della r airman 80 e e ora un inizio della mano ha il suo mese grazie mille passeremo ai piedi ci sono i scade domani ecco perché era il 50% di sconto perché scade subito devi finirle tutte se no niente 38 2017 e niente adesso abbiamo pranzo colazione pranzo e cena fino a domani all'odore sa di tossico odore aspetta che butto via che sennò qua quell'altro passa e mastica tutto quello che trova sono in piedi dalle 5 del mattino io lo dice lei che non scuoce la tenga a bollire due ore le lascia fare è decisamente secca credo sia stato un gravissimo errore per prenderti due tre litri d'acqua va mh acqua e cioccolato si e quindi come faccio io gatto a produrre questo gioco questa mattina secondo me ti inculi e mi sa anche a me mh invidia faccio due ore io però paghi noi comunque no paghi me il doppio io volevo pagato me ne sbatto rilinco il link molto importante e poi questa cosa bisognerebbe farla presente Marco cosa? a tutta game division hanno dato un link per spammare la 1080 dicendo che è importante per far capire ad invidia la portata del nostro reach che è il cliccaggio nel link allora noi siamo delle persone molto seguite molto importanti molto belle tra l'altro perchè siamo i due Marco eh quindi sicuramente il nostro link verrà cliccato tantissimo sia da me che da che dai termosifoni e tutti gli altri di game division cosa vuol dire? chi è che clicca da berro fronzo? ma chi è che lo segue? cosa vuol dire buddilicious? che cazzo vuol dire? che cosa vuol dire che loro hanno il mio stesso link? e poi grazie al cazzo che fa un bella figura sono io che tiro avanti la carretta e... no dai io sono veramente esterrefalto cazzo penso che addirittura youtube è il nostro link dai penso che non fa un cazzo non fa quello lì mamma mia che vergogna sono imbalazzo sono sincero ora compro un altro 1080 se non invidia vi prendo per influencer inutile ma tranquillo la puoi mettere in slide e funziona Destiny 2 era scritto prima e invece parliamo male dei colleghi buddilicious è un culo che è una tromba esatto gatto io comincio a perdere biotrie qui che dobbiamo fare? e non funziona il gioco mi sparo? te lo disi ingrighi adesso bannerò tutti quelli che usano le emote di buddi permaban bravo Mark parole come i maccini parole grosse eh dai manca un minuto e poi si gioca Moro a questo punto credo che non giunga no va bene come ieri porca vacca ieri vi avrei ammazzati eccolo guardalo eh non anch'io l'avevamo appena detto imbarazzo in ritardo bravo Morelli senti è niente e no neanche tu a parte che stamattina non vedo una mazza Moro mi sono svegliato non ci vedo niente eeeh ho anche gli occhiali che cosa eh? dai secondo me stamattina funziona invece Mark ha detto di no ma come prova non hai provato fino ad adesso prova ho detto a lui io ho provato fino ad adesso neanche mi entra più nel prologo ormai a me non è che crasha proprio non entra più ah dicevo dicevo Moro cioè che cazzo vuol dire che noi abbiamo lo stesso link di tutta game division che noi tiriamo avanti la carretta ma guarda veramente cioè si stava meglio quando si stava a casa però ho parole eh? io ho parole poi ieri sera mi stavo lamentando anche di voi ma cosa vuole questo? ieri sera stavamo giocando a PlayerUnion e io vi domando ma servo per la live e tu no tranquillo vabbè allora vabbè mangio tranquillo poi arriva Leazar allora vieni in live ma come? ma appena detto di no poi vado a mangiare ritorno tutto veloce riavvio il computer vado a fare la cacca entro in live in tempo record alle 8 precise e niente non c'era posto e no ma le Ducati io non ho capito ieri sera cosa è successo e ieri sera continuavate a dirmi vieni non vieni vieni non vieni io corrivo avanti indietro che bacrettino ho capito cosa è successo non ho capito cosa è successo nel senso che per me potevi venire non è quello eh non c'era posto eh ma non so perché non c'era posto io di base avevo contato te eh c'eravate tu Moro Liezar Esprit e Corvo io avevo contato te io infatti ho capito forza nessuno arrivate sempre all'ultimo momento organizzazione serve organizzazione io ero organizzato mezz'ora te sei arrivato in ritardo di 10 minuti oggi quindi sei buono eh 10 minuti non è vero non mi sembra e invece si ma io ieri ero giusto e ti ho anche contato poi non so cosa è successo ora le regalo tutto quello che mi ha detto sulla carta per ringraziare l'avermi fatto cagare con Outlast eh ti ha fatto schifo no perché si avrà preso paura grazie mille comunque è figo il gioco di ieri sera no? cazzo a me ha intrippato un po' era figo era figo sì aspetta che spostiamo un po' così è figo bravissimo aspetta che vediamo di centrarla un po' questa graficchina qui che purtroppo Moro ma te alla fine l'hai fatto il prologo cosa c'è Mario? l'hai fatto alla fine il prologo non sento e che ne so io allora cosa c'è Mario? non l'hai fatto il prologo allora eh no e quindi cosa facciamo stamattina in live Morelli e io che cazzo ne so Marco mi date la chiave e streamo io ed è che hai della quella della sette ti funziona eh io l'ho già fatto madonna il prologo l'ho finito ieri sera io c'è il prologo allora intanto vediamo se parte qua perché siamo zitto rogati stamattina e perché io non ci vedo una mazza? cosa succede? i drogati hanno gli occhi bianchi eh e allora sarò drogato tutti i personaggi io c'ho caldissimo ah tra l'altro mi succede una cosa particolare sentiamola ah si mi succedeva perché adesso si è fottuta anche quella se provavo lo stregone e il titano neanche mi partiva il prologo adesso non mi parte neanche col cacciatore allora che non hai scaricato il gioco? cioè hai scaricato 20 mega no ho scaricato tutto l'audio prima mi andava li ho provati poi io a un certo momento basta ha deciso che non devo più giocare a niente Shishwa ieri ho chiuso l'ultimo esame della mia vita grazie per accompagnare oh voglio la menzione che cazzo voglio la menzione tra l'altro è ottimizzato da dio eh si anche l'audio gira gira veramente bene gira solo che non funziona lui non si sa per quale motivo no non lo sta acchiappando quindi dovrò fare cattura schermo e devi fare cattura schermo quanto pare non mi urla però l'audio e non lo posso abbassare questo audio qui quindi ve lo cuccate mi dispiace quello di me non lo puoi fare no finchè non finisce di connettersi l'audio a questo ha finito il caricamento e vedi che è andato via stronzi questi comunque il revolver è l'arma più forte del gioco si ma lo era anche in destino uno sciotta non quelli grossi ma gli altri si intanto oggi sono senza cuffie e gabrie li insegna ma ti insegna le cose sbagliate quello lì e dobbiamo urlare le cose sporche sporco e fango pomodoro su maglietta bianca no sulla cannotiera no dita tagliate da un pezzo di calcio ma te sto c'è scemo ma te sto c'è scemo è scevissimo concerti gente con il naso cosa cosa ah vero che tromba che è un naso e quindi non vi aspetta gatto ti do la mia password dopo fai i fatti miei clicco col tasto destro ci invita amici ti invito vediamo cosa succede ostia aspetta che magari ti mando un sussurro a me ma se io lo ehi ma che schifo aspetta gatto perché magari se mi inviti e io clicco il tuo link questo sblocca tutta la faccenda un attimo posso fare solo rimuove amicizia o mando sussurro no perché non ero nel gioco adesso che entro nel gioco vedrai moro invece lo posso esaminare mi faccio i cazzi suoi ma guarda che fa il maghetto invitami che sta pisciando il culo aspetta provo a vedere se puoi invitare è fico il mago invita nella tua squadra attenzione ti è arrivato? a chi? a chi? a te ah no adesso ti ho invitato aspetta invito a ricevuto premi U per visualizzare i dettagli l'ho premuto non è successo niente invito anche Marco dai che forse riusciamo a bypassare premi U per visualizzare la sua ava e non succede non succede come si come si preme la U? c'è un metodo particolare per premerla con il gomito di fare shift U prova a dire aspetta eh ma stai zitto stai cosa c'è il serpente? cos'è il serpente qua? vediamo se riusciamo a bypassare per davvero cosa sei te? sei una donna perchè sei una donna? mi inviti gatto un attimo? ti ho invitato ho travesse eh to è arrivato? no riprovo con moro dai provaci con me ti ho mandato eh adesso non compare CTRL TAB SHIFT F7 U la mente è solo per PC mi pare di si questa qui sia per PC eh si credo di si d'altro è open dovrebbe essere open si da oggi e come allora c'è un modo per aprire che cazzo Gabriel prova a rinvitarmi ancora apri di tomorrow niente? no vabbè allora però mi apre la chat vocale com'è possibile? non lo so vedo che parlo e ah perchè la UTI apre la la UTI apre la chat vocale pronto? ma perchè c'ho la chat vocale? come si toglie? la UTI apre il menu ma perchè c'ho la chat vocale? toglila e come si fa? esc su impostazioni auto impostazioni si si vabbè intanto vedo di fare una una crogiolata una partita veloce volume della chat è zero dai fallo e fate voi provate Moro prova a fare il prologo vediamo stasera è gigantix si ho trovato guardiani buona c'è una galassia? aaaaaaah eeeh scusa ma il mio messaggio a marchi che ho scritto sbò deve rimanere per tutta la live non è più andato via eh hai rotto hai rotto tutto quanto e va bene sono molto particolare sono Pierluigi particolare e non me la toglie più imbarazzo ok è nato via il video di giganti che mi è piaciuto non c'è quella chat che sta in basso io oh siamo a Javelin-4 che come dicevi prima si ma devo cambiare l'arma che questa qui è una cannottiera che spara di gamma come fai solo una cannottiera? è difficilissimo il fatto com'è che si fa col tab? si può modificare le persone no? con la i ok mi fa abbastanza cagare è leggendaria per carità però mi fa schifo fucile a impulsi tutto fa reimpatto questo qui fa più impatto questo è impattissimo ok ah no ma è buon colpo? eh che sbarro aspetta un attimo eh e la pistola a monocolpo? cesa grazie mille ok datemi un secondo che mi devo riprendere un attimo con i controlli perché non cioè ho giocato la trama ieri da una monata scioltavi tutto adesso invece devo giocare contro giocatori veri è proprio un monaga infatti l'avessi preso una volta porca vacca niente partiamo già male aspetta scusate scusate dovete prima finire la storia tuttora e grazie eh lo so grazie steve grazie 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 pensi che volevo utilizzare l'anno ah si mi ricordo cavedano cavedano a 9 mesi le sveglia un segreto cavedano? il mio nome si pronuncia come si fa come fa lei da 9 mesi ah non si pronuncia vabbè si si pronuncia come il nome del pesce il cavedano quindi aspetta un attimo e non mi sto prendendo con le armi cioè in realtà non mi sto prendendo con la sensibilità però ieri ok uno l'ho ucciso no è troppo sensibile e adesso come faccio ad abbassare la sensibilità infatti vedi sensibilità quanto la tenete voi? eh io sono alta non va io tengo sempre più alta dal solito eh anch'io però beh perché ieri ovviamente contro i ok molto meglio però che la ulti del dello stregone dura una sega che palle io ho il titano e il titano copia sempre la marvel in destiny 1 c'avevi il martello di Thor il titano mi fa veramente cagare no a me no eh che vai in giro con lo scudino a fare si si fa Captain America eh eh faceva Thor nell'altro a me non dispiace ehm e invece cazzo lo stregone si mette a volare con la spada che lancia le onde di fuoco il cazzatore fa fa Darth Maul invece tiratela di meno però eh cioè fa ancora con lo scudino va in giro a correre dalle scudate cazzo volere ok un mitra che così almeno imparo a sparare io lo vorrei giocare mi piace anche un sacco niente però non si può giocare ok ci vuole un attimino come al solito per calibrarsi le mani con i nuovi fps vedo dei simboli di nato vedo dei simboli di nato hai schiacciato il nemico come una mosca hai schiacciato il nemico come una mosca però con che voce poco aggressiva me lo sto dicendo questo messaggio ok ok fammene provare niente non mi si apre la porta quindi vuol dire che non funziona non funziona dove andà eh ah no e com'è questo non riconosco i buoni dei cattivi sto morendo a culo un problema eh siamo uguali perchè non non c'è molto bordino rosso nei nemici quindi mi confonde è per questo che preferisco il tutti contro tutti qualunque cosa si muova gli sparo non avevo granate uccisione che succede qua niente se mi raccolare mi prende anche da lontano si si ma non tanto mi sto un attimo grazie mazzo non ti ci abituare ricordo che se avete un pc 4k e uno schermo 4k potete giocare in 4k e anche con l'hdr bellissimo sai che l'hdr mi attira un sacco a me eh non ho la granata mi ha dato una sega della pd prima invece niente mi ha impulato maradona lì e niente e non funziona ho una sega qui stiamo perdendo come la merda quindi voi siete nella cacca insomma ma come facciamo non lo so si sa paperelle grazie mille adesso provo a fare così doppietta io voglio giocarlo 100x600 proprio vuole lui quindi sono tornato indietro addirittura ed è crashato come feeling non è male eh purtroppo è un po' un casino adesso riprende abituarsi al pvp perché ieri ho finito il prologo in un quarto d'ora andavi in giro ammazzavi tutto fine sono captain americas e niente che figura di merda due pietta sparano da dove? chi era? dietro? non ho capito chi era pietro? chi era pietro? però che vincola da dietro sono tutti molto bravissimi che fastidio che la mirava un po' a troie lì è il mirino lasers sicuramente colpa della scheda video e del piso è un problema del nut c'ho fastidio ebbe il nut ce l'ho aperto gli ho fatto un perry? non è mica playstation è funky flusher avete la zona di vantaggio gli ho fatto un perry a quello lì eh aspetta vedo le persone moro ma tanto cioè adesso andrei più avanti io ieri ho giocato con uno per 10 secondi no ma anche io e niente lì nel prologo come vedo sono l'ultimo della squadra anche dispiacere però non so con quante kill quante cose allora chi è? cioè non so quante kill ho fatto mi dispiace è morto sicuramente un sacco di volte chi ha fastweb ha questo problema ma io ce l'ho fastweb eh e ti giuro è la prima botta in realtà non è la prima botta perché mi è crashato tutto internet ieri mentre lo facevo è un altro problema cazzo ma infatti credo che moro abbia fastweb e mark abbia team io team chi l'è? chi l'è? death grass of fire grazie spero di aver letto bene hai conquistato la zona B 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 tu non l'hai vista la cazzo in moro? ce ne sono abbastanza eh sì sì l'ho vista la cazzo poi mi è crashato ce n'è più di una di cazzo schippale Marco eh l'ho schippata adesso vediamo cosa succede e niente abbiamo perso te ti si era bloccato qua giusto incaricamento qua riprova vabbè undici kill proprio l'ultimo del... non l'ultimo degli ultimi almeno tre conquiste mh non mi dice le morti ma va bene cioè mi diceva la... 0-6 ho fatto come prima partita quasi accettabile dai perchè il problema con nata aperta e quello con il problema bisogna chiuderlo per entrare ma non ti fa comunque giusto però scrivi giusto per cortesia non ho capito un cazzo no comunque non sta andando è rimasto incaricamento se guarda il contrario sei il primo bravissimo non fa una piega quasi provo a fare la roba del cellulare con il 4G errore eh potresti fare solo il prologo poi che ti frega fai il prologo con il 4G è lui io comunque sono pregato fascio rosso buongiorno gatto parlo per tu eh no cosa faccio con il cellulare io perchè quello che faccio io ma si ma io penso a parte che non so come si fa non credo ti consumi un cazzo in realtà sempre la jambe nel meno 4 che sono i gradi stavolta sarà destino ah rindi allora io destini che ho sparato questo uno sono matto prendi quelle zone cosa c'è qui tuttappoco caricano i colpi per l'arma buona e niente mi hanno tirato dietro i cappettoni fortissimi aspetta che magari avevo sbloccato un'arma nuova ah ah no ma io devo prendermi bene con la pistola quella lì cos'è retro futurista che ganzerie io non so come fare amici ti sei bloccato? no a me non e non c'è modo non c'è modo non va e basta semplicemente non è che c'è c'è poco da fa ovviamente ti diamo la chiave di stream però sinceramente mi rompo le balle ma uno mi ha fatto più che altro se non riusciamo a giocare assieme non riusciamo a fare niente che non sia il crogiolo e due ore non so se le reggo uno mi ha appena fatto uno screen su twitter che stava giocando con me il trologo cazzo cosa sta succedendo? hai crashato moro? si sono tornato bravo perchè wingard non mi fa vedere le cose? voglio vedere le cose marco dice che in chat che ha risolto allora da one con il 4g eh ma il suo console è diverso non c'entrava un gazzo mi ha ucciso lemon sucker ma stai facendo il pliwpli eh per forza perchè non faccio il pliwpli ma non c'è nessun codice errore mattex e quello lì cioè ti compare errore non c'è niente si no no non ti da un errore cioè non c'è un nome dell'errore ti dice solo errore in rosso niente non ci riesco con la pistola vabbè userò l'altro mi sento un po' uno stronzo perchè cazzo qui quanto bello bisogna chiudere un nut manu che si in una scatola che pugna si però sono diventati già tutti dei pro cazzo ci hanno giocato mezza giornata tutti i massimi esperti vabbè che la mia c'è anch'io eh mi sono trovato da subito benissimo ma si ma nel pwe anch'io no no proprio come mira come feeling non ho avuto il minimo problema a mirare no no capito è che qui saltano ballano corrono sono un attimino distratto infatti devo stare un attimo più attento è che appena mi distrago un secondo legge la chat o altro qua mi spara nel culo e infatti ok ma ragazzi inutile che cercate problemi è un problema addirittura loro hanno detto che ci sono problemi quindi è un problema proprio comune ah no me l'aveva ucciso poco comune allo non è che c'è questa gran soluzione semplicemente con alcune connessioni va con altre no va a culo adesso provo a farlo a conquistare in 7G si vai mo è il velocissimo tra l'altro vai mo vai mo vai mo cosa? è il g velocissimo bravissimo munizioni di sotter... me le han ciolate come l'ho detto non sapevo che bisogna se premere quelle... e non li conosco i buoni dai cattivi che palle Moni o cattivi Bravo Fica Devo da conquistare zitto zitto la giornata Intanto mi dimentico sempre Che paura che c'è la minimappa In questi videogiochi Ormai lo so a memoria quello che dicono Sono rinoceronti spaziali Che prima ti caricano E poi ti caricano Io le ho saltate le cazze Perché me lo voglio giocare No non è la cazze No no è Quello che dicono Sì ma quello lì anche io le ho saltate Perché me lo fa basso scusami Guarda Star Wars la seconda Non la farò mai nella vita Anche perché devi entrare nel router E mettere come connessione PPP o E E piuttosto vado Beh No ma no Quelle lì sono tutte le soluzioni per console Però ragazzi Doppietta Doppietta Un'idea di come possiamo fare Aspetta adesso provo a vedere se in 4G funge In caso lo fai anche tu in 4G Sì mi devi spiegare come si fa E' una scrontata Colleghi il cellulare al PC E metti il Tethering USB Se no con Morro ci mettiamo e facciamo l'altro Mi dai la chiave però facciamo qualcos'altro Che non sia il crogiolo da solo Ah no beh sì Al massimo Sennò veramente ne esco pazzo Per carità E' bello eh Però No certo Però è normale Sto imparando a giocare Quindi sto anche succando abbastanza Quindi Doppio uccisione Se Morro riesce a sistemare appunto così Al massimo fate Eh infatti E' quello che dicevo Sì In 4G non può sistemare direttamente in Morro Eh che inculata Guarda come c'ha fottuti Eh non c'ho Non c'ho abbastanza giga Dite di spostare la camera Vabbè perché volete vedere la minima Porni dovrei Che cazzo te ne frega Rimare a qualità più bassina Poi mi pare di non avere abbastanza giga Adesso ci guardo eh Quando ho finito qui Quanto consumo una live Assentamente Eh Un po' sì Un po' penso che Un po' Un pochino sì Ma no Sono sicuro che Però non voleva sapere se avevi Magari dei dati Ma questo è af Poraccio E poi porca vacca Ti giuro ho una voglia di giocarlo Incredibile Ma anche io Ho fatto il prologo 68 volte Che voglia cazzo Complimenti No sicuro una ventina di volte Tra ieri sera Controllo totale E come l'ha detto lui L'ho detto Adesso Le ultime volte Neanche mi Mi ha aperto il prologo È andato l'ultima volta Così a fullo Ma Puttana che cazzo Che cazzo Maledetto Lemon Sucker Per cazzo Fortissimo Lemon Sucker Prendiamo queste munizioni Che ormai che c'ho qua Mostra il nemico cos'è una vera battaglia Mostra il nemico cos'è una vera battaglia Mamma mia Che doppiaggio terribile Cos'è una vera battaglia Voglio vedere E vinceremo Aspetta ancora Sì Sono lasciati I cartoni vecchi Tutto O niente Porca paletta È Torbion Su Overwater Praticamente sì Una vittoria impeccabile Ma sentilo Così Mi diverto Sì Lotti come un animale Primo Vedi Basta non usare i revolver Secondo per le kill Ma primo Non è vero comunque Avevi 17 kill Quello dell'altra squadra Fatte 20 Ah ma Vabbè Ma della tua squadra Dico La mia squadra ero il primo Io guardo il generale Ma il generale La solo stare Cosa ne sa Lotti Generale Dietro la collina Provare questa retro futurista Ah un fuggire a pompa No Non lo voglio Fa schifo Bello Gira lo spettro I poveri occhi Sì ma non ho capito Ma Ah no aspetta Ho due cose Due ulti Da vicino il pugno È meglio di qualsiasi arma Con il pavido risulta Ok L'ulto del terreno Il pugno di distruzione Lascia dietro di sé Un campo che infligge danni Ah quindi non devo fare per forza Capitano America Ah mentre sei in ulti Allora Ci sono due ulti diverse Quella da sentinella Che ti fa diventare Capitano America E quella Assaltatore Che invece Dà un pugno al terreno E poi dopo Fa danno Eh voglio Quello che è Iron Man Praticamente Niente siamo ancora In cerco Iron Man Ancora ha copiato la Marvel Niente Sì sì Una dietro l'altra Scusami Come mi modifico la nave Non mi fa fare Niente No Aspetta Aspetta Mi ricordo che fosse qui Però No I Beta Ah S Schermata secondaria Ah posso cambiare L'orgoglio dei titani No Ah la nave è questa Me la ciuccio Ah posso cambiare il colore Effetto predefinito Wow Non posso fare assolutamente niente Vabbè Indica Fammi vedere l'anteprima Beh E lui fa Anteprima e molto Vedi Vedi Lì 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 Il cane ha caccato lì Bravo Non sto trovando giocatori Anche perché non li sto più cercando A quanto pare Provo a rinvitarvi Così giusto per Aspetta Aspetta Provo a invitare Marco Aspetta Aspetta Che qui sta andando bene Forse Eh no ma tu sei in 4G Marco ti ho provato a invitare Mi dice Premi U per visualizzare i dettagli Premo U E non va C'è un messaggio qui C'è un messaggio qui che non si apre Come si apre? Ah mi è scritto pisellini Sì Però comunque È una bugia Perché se premi U Non Succede una mazza Quindi Vabbè aspetto Moro e dopo Facciamo la La trama C'è la La cosa lì La La sparatoria Quella Eh Sono molto triste Onion King Aveva lo stesso problema Anche noi Non sta attento Non sta Cosa ha detto Gabriel? Hanno messo delle skin gratis Poteva riscattarle qui Ah E intanto la carretta viene portata avanti Qui Cosa cambia dal primo Per adesso Assolutamente niente Plenzioni No Perché ce ne sono anche di uguali Quindi no Come è possibile Scusa In mezzo a caso Sì sì Hanno detto che ce ne sono alcune Uguali Ho capito Se è ben arrivato Però Entra nel contesto Prima di dare sentenze È così che si fa C'è un 2 sulla copertina Cambia che su PC Così anche i giocatori PC Possono annoiarsi Vediamo un po' La prova del 7 Per 2 Salto la cazzi Più pesante rispetto al primo Proprio di peso Figa se avevo giocato il primo Cazzo Te l'ho fatta Andare avanti a dove ero prima Marco fai anche tu intanto Ho fatto il live in video No non l'ho giocato Te l'hai fatta? Eh mi è andato più avanti Dove ero prima Eh aspetta Fini Fai prima Sempre a Javelin-4 Sono insieme a 3 signorine Tutte bardate Il sistema di reward Credo sia cambiato anche nel primo In realtà Dopo un po' Eh Ah ma adesso con questo qui C'ho il pugno della figata Pugno della figata Eh adesso Adesso vedi Solo che non Vedo uno Gli tiro un cartone sui denti Tanto conquisto Sì 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 Questo è il personaggio che volevo Posso dire un cartone sui denti Al primo che Eccolo qua Eccolo Ah non è morto però Vabbè Poi è morto Però Che pugno Eh scusi Ho ucciso io con la granata Perché non riconosco I miei Eh Sì ma serve Rullare Zona di vantaggio Conquistata Yeah Tutti pazzi qui Eh io vengo qui Conquistata Che devo fare Eh hanno perso Stiamo girando in tondo In pratica Gira tutto intorno Alla stanza Mentre si panza La panza Eh questa è stata Proprio una scemenza Ho la pugnanza Sì Ma il gioco è bello Come il primo Il problema non è Non è il multiplayer Il multiplayer è sempre carino Poi magari in live Da guardare il solito Eh FPS Che magari non Non diverte granché Infatti Sarebbe da Da non farlo in live Semplicemente Fare magari qualche video Della trama Per Perché insieme è divertente Per il resto Eh Il problema è Sono le orde Che è un po' ripetitivo Se ci fossero mappe Un po' più grandi Un po' più Fiche E anche Il crogiolo avrebbe Un perché in più No ma è un gioco Che io giocherei ora Non in live però Sì no infatti È quello che dicevo Il problema è che Ti rompi le palle Con la trama O almeno Sei come il primo Perché È Lo stesso nemico All'infinito E poi arrivi Al nemico gigante Che gli devi sparare Il tre quarti d'ora Eh sì Che due coglioni Per quello Moro dove sei arrivato? Eh Boh c'è un boss qui Ma quindi devo collegare Il telefono Mi sta esplodendo il cervello A me stamattina Cade una vacca Oh ma che sarà un successo Sicuramente Siiii Eh volevo ammazzare questo prima Eh niente Minchia erano in tre No ha perso il comando Ah perfetto Collego il telefono e non succede niente Benissimo Non ce la faccio C'è qualcosa che funziona stamattina Che paura L'abbiamo conquistata questa si Andiamo là Ok La zona di vantaggio è nostra Poi cosa devo fare una volta attaccato Poi ci sono queste opzioni Non ho colpi su quest'arma Ma allora Ma che spartorio Che ruido Che spartorio Ahia che bale Il problema di Destiny è che i nemici sono delle spugne Si che pigliano tutti i colpi Che palle Che palle veramente Ma dammi i dati mobili No Cos'è? No Andare Quanti ce n'è? Ehm Dove sono le opzioni Dobbiamo andare su altro Si C'è tethering hotspot portatile Si E lì c'è tethering usb 8WiFi Bridge Condivisione bluetooth Condivisione usb Condivisione usb Sarà Devo provare la ultima Non ce la fai E' buon? Sono connesso con 4G? Dove ne metterlo da qualche altra parte Aspetta un attimo Ti dovrebbe in teoria crashare Ho acceso il 4G Magari era utile Non puoi uccidere i nemici se sono già morti Tutto pazzo Tutto molly Poi per disattivarlo Immagino che devi semplicemente Fai lì la stessa roba Fammi cambiare a sto punto No lo spengo semplicemente Anziché attivarlo No no Cioè spengo il tethering Non farà il cazzo che gli pare Devo cambiare arma In realtà basta Stacchi lusb Vuoi consigliere al tuo pc Di essere individuabile Per altri pc Di sostituire In realtà Sì Fai sì Posso cambiare Scusa Oh dai Fammi cambiare la secondaria A sto punto Mettiamo qualcosa di più Fucile da ricognizione Non è questo Va bene E quando so se Mamma mia È incredibile questo uomo Dove si esserlo già Aspetta Sono già morti Zona B Persa Controllo totale Il nemico Ha le vostre zone Il doppiaggio è veramente Incredibile Questa è se fosse la tua sveglia Mi dice che è attivo Ma Mi dice che è attivo Però Andiamo a B C'è un nemico Che dolore Che dolore Eh minchia Vedi che lui c'ha il revolver Quello buono E spara buono Ma aspetta C'è anche Si chiama anche il mio Buon diavolo Eh no C'è il minuetto Il minuetto Che cazzo vuol dire Per il minuetto Cazzo vuol dire Per il minuetto Però A me si apre il programmino Del Huawei E mi dice Dispositivo non connesso Però al pc Ma che cazzo Clicca e connetti Aspetta Il pc ti ha chiesto Della rete Si Ho fatto si Però a me non è C'è non ha fatto Come ha fatto a te Eh vabbè Va bene così No Ma dai ma Siamo pure uno di meno Adesso Che palla Proviamo Siamo 3v4 Si Chiudoria pro destini Provasi Eh ho capito Che devo farlo Eh gatto Scusa se parliamo Eh però Purtroppo non posso Tu moro ce l'hai fatta Eh sono andato Parecchio avanti Rispetto Prima Ho rotto Ho rotto le turbine Gatto Madonna Eh ancora un po' indietro Eh madonna Quanto è lungo Beh non così tanto Però c'è ancora un paio di robe da fare Te non hai finito Un'altra cazzina adesso Aspetta ma me l'ha spento di nuovo Ma me l'ha spento da solo Ma che cacchio Come dispositivo non connesso Guarda da te Hai perso Ma non ti arrendere Ma non ti arrendere Tocca per configurare Tocco ed è attivo Ma allora Che brutto questo signore però Va bene Gabriel Ho fatto 12 kg E torna in orbita Con la O devo andare E vabbè a sto punto Faccio partire PVE E lo provo almeno Aspetta che mi devo cambiare Anche i vestitini C'è una roba più fica Questo Ma niente Ma che bello col pelo Aia Uno tra i giocatori Quindi spero vada a fare Anche con uno In orbita con il simbolo Di instagram Niente Devo per forza andare Con altri guardiani Ma ce l'ha scritto Posso invitare gli amici Ti invito allora Aspetta Ma allora Non è vero un cazzo Che mancava 6 mesi Eh mi ricordavo Che ci mancasse ancora Un po' di più Aspetta Apri navigatore Ti ho invitato Ti ho invitato Vieni E dove Uh Catto Mi hai accetto Nella squadra Nella squadra Nella squadra Dai Yeah Finalmente La fine della live Bestia Oh bravo Grazie Dai andiamo No niente Qua non mi fa le cose Cos'è che non ti fa? Non mi fa connettere il dispositivo Cosa vuol dire? Che dispositivo devi connettere? Il telefono Il telefono Il telefono Mi dice C'è proprio Non metto l'USB E mi dice Che non è connesso Il dispositivo Invitare la squadra È pericolosamente Vicino a rimuovili Dalle amicizie Assolutamente sì Il rumore Che è connesso Lo fa Prova a connettere Non credo di consumi un cazzo Adesso No non credo Eh se non c'ha Il wifi Al telefono Al pc Ragnar Te ce l'hai la pennina Wifi Mark? No non ce l'ho Ah Vabbè Era nel vecchio modem Quello lì Non ce l'ho più No ce l'aveva lui Una volta E da quando la fibra Non ce l'ho più Buona giornata Castani Solfrizzi Attraverso Non ci dovrebbe essere bisogno Di quella roba Mark Boh Io la sto facendo Adesso vediamo se mi sblocca Eh Poi devi finire Il prologo In dieci minuti Però Devo tagliarmi la barba I capelli stamattina Però non mi sono fatto La doccia ieri Mi vergogniamo Andare tutto sporco Di merda Del barbiere oggi Allora ci vado domani Perché non puoi farlo live In 4G Mi è pensato di rasarsi A 1 Ok aspetta Ho dovuto Impostare Il caricamento È nero C'è nero però C'è scritto beta Quindi vuol dire Sì everybody Sì Quindi siamo in beta Beh Sta Ok poi per il tettering Era Aspetta Devo rifare Eccoci Me l'ho appena Sistemato Un attimo Allora Dobbiamo indagare Moro Dai Secondo me Quelli là giù Sono nemici Ma andiamo dire L'obiettivo C'è il traghetto, c'è il traghetto Guarda Ma è il loro traghetto, coglione Che imbarazzo Ma sì che muoiono subito Ma andiamo direttamente All'obiettivo, no? E non, dov'è? Eh no, è lì avanti, guarda Io non lo vedo Guarda nella, non c'è più la minimappa Sì c'è la minimappa, guarda dove la freccina Ah, è dietro Ora ho fatto condivisione USB Non mi stai dicendo più neanche sì e no Eh vabbè Eh non sono connesso Quello addirittura me li insegna di rosso Nel mio tendino dice No, non me l'ha più detto È morto quello lì Eh vabbè dai Cure nai, galattie mille Che lavoro bisogna fare qui Buon lavoro barba Adesso vediamo qualcosa di nuovo No, ancora i soliti robot di merda Che palle moro Disinstallo Buongiorno Quello là mi fa laserino, cosa fa? Cosa tocca? Palle Sempre la stessa roba da fare Sempre Devi sparargli alla panza a questi qui Ai robot A posto Fetto Vai tocca Non me lo fa Tocco Minchia E destini una Zanluc grazie No ma è giusto Cioè ho fatto quello che mi hai detto Eh fammi Fammi una Eh ma ti faccio vedere l'altro Perché non c'ho condivisione E io ho quello lì Guarda lo passo Niente È diventata una missione singola questa Ma c'è lo stargate Ma prima me l'ha fatto Che audio Prima me l'ha fatto fare Che cannonata No no Aspetta Moro andiamo direttamente negli stargate L'ho fatto Te l'ho mandato Che sporo Niente No qua ci muoio E infatti E infatti Non è al cazzo Ho sbagliato Penso io qua Ma che grosso quello là Te lo dissi Oh Oh Andiamo a terra Stiamo scemi Mi ha sbombazzato Ti resto Ti resto Eh condivisione così ce l'hai Ah che male Eh niente Ti resto Ti resto Eh ma non mi ha neanche crashato Né niente Eh va bene Non si chiama il tuo revolver Eh non mi ricordo E poi soprattutto Non me l'ha detto di fare sì Me l'ha detto prima Ma non ha detto Eh ma Perché prima era la prima volta Ho chiuso Era il revolver Ma il mio fa schifo Tu che sei Il titan Il titan Il titan fa cagare Tu non capisci un cazzo Io do i pugnazzi Quelli lì della madò Ma poi mi dovrebbe cambiare Un minimo il ping Su ts È sempre uguale Eh vabbè Come c'è una buona Ma anche a me Io c'ho 46 Con La connessione Vai tu che vuoi vedere Con che suono È mostrato la Ferrari Ma i nemici sono molto debole Che stanno giocando a cazzoni Perché ci dobbiamo sbrigare Abbiamo 10 minuti Abbiamo tanto comunque Al massimo andato avanti Altre due minuti Intanto che sistemo Eeeh A sto punto Scendo Non preoccuparti Al massimo Vientro limitato Niente Qua se moriamo Ricominciamo dall'inizio Il gioco Viene a camminare Verso la luce Aspetta Cazzo È che non posso neanche Fare il prologo In live Perché dovrei partire Col 4G Non ce la faccio Eh sì Esatto Che male Hai visto? Con questi nemici qui È molto più facile Sparare con la pistoletta Di merda Lancio Quasi Bene Vabbè Era quello Il tono Oh no Non ci arrivo Iii Di pochissimo Pomba Niente Mi devi restare La vedo dura Aspetta Resisti Resisti 20 secondi Ecco me 6 5 4 3 2 1 Eri Eccomi Puoi morire Ma come cazzo hai fatto Ad arrivare fin lì Mi son buttato Ma sì Ho capito Al millimetro Si arriva Vabbè Io volo Anch'io Dai moro Vado di ulti Dai vado di ulti Anche io Vieni qui Prendo tutti a cartoni Allora Vaffanculo Madonna È finita È finita l'ulti Mamma mia Mi è piaciuto Com'è andata Bravo Questa è che raccolgo Le palle Ho fatto una combo Di ulti Che palle Anche io E non ci sono Da me Ho già toccato Tutti Si vede Bravissimo Tocca palle Alfonso Non posso smettere Di correre Perché Altrimenti Perdo La priorità Acquisita Per il pugno Della madò Guarda che trivelle Cosa Non te l'ha detto Te No Ah cado Gatto Cado Gatto E niente Eh c'era un buco Non l'ho visto Gatto Me la tiri E ho paura No moro Non vengo Se cado Anch'io siamo morti Tutti Dobbiamo rifare tutto Non puoi fare i salti Fichi tu Scusa Eh sì Però Ti ansia Faffanculo Ecco la Barra spazzatrice Non è comoda Come no 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 E' più comodo Con Il pesco Amoro Affa È il salto Per eccellenza Eh sì Oh Sì ma non Vado là Vado là Vado là Vado là Vado là Vado là Che dolore Allora Sei una merda Grazie Ti riprovo Opla Eccolo Tranquillissimo Salve Ah che botta Beh Ma che male Ma questo è scemo Sì va bene I nemici sono Allora sei stronzo E che cazzo Moro Che cazzo Guarda che è successo dopo E niente Abbiamo perso Guarda te Eccoci Fortunatamente da qui Guarda che trivelle Adesso me l'ha detto Aia Ma mi sono preso Dario Ma adora Che ginocchiata Sulla faccia Oh Aia Che trivelle Non andare Contro quelli lì E allora vai Contro quelli lì Che te devo dire Sono fortissimo Guarda qui È fortuna che c'è la mia granata Lascia fare Salve E adesso Eh Adesso Guarda che trivelle Andiamo a trivellare Eh Questo ha sparato Quello lì Piano eh Devo grattare la barba Nelle impostazioni della classe Può modificare il salto Ah Fome Eh perché probabilmente Cioè a me da fastidio Che devo premere sette volte Col salto Per stabilizzarlo Come piace a me Vado Col pugno in corsa Non me l'ha caricato Quindi niente Io faccio Così Scusa Scusa Ho sparato Wow Andiamo verso Il luminario Laggiù Sì Avvicinati al sito Di perforazione E così Guarda che trivelle È da vicino Sì Insegniamoci giù Per questo Canyon Canyon Arrivano delle palle Questi lanciatori di testicoli Sono sempre gli stessi nemici Quelli che ci sono su Marte Sempre quelli Ah no Non è vero Sono dei cani Che ho ucciso in animalica Gioco che ho registrato ieri Che bel gioco Non è vero Beh Non è brutto Mamma mia Mi è arrivato qualcosa nella schiena Ma Dei missili da dove Beh Oh Bisogna non prendere anche quelli Moro Eh no Le navicelle Ho finito i colpi Ma è la trebbiatrice Ma la trebbiatrice Non è quella Per i campi Per i campi Sì Infatti quella lì È così che le fanno Le trebbiatrici qua Cosa ne sai tu di questo paese Effettivamente Siamo nello spazio C'è spazio per tutti Sono fissati con le trivelle Vabbè Moro 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 Guardami Moro Guarda Moro no Porca troia Ma dai Stavo facendo io Ma guarda te Eh te li ho indeboliti Che tu sei massica Eh te li ho indeboliti Ma che cazzo dici C'ho il pugno della forza Ma no Ma sei il titan Fa cagare il titan Capisci un cazzo Invece a me mi stanno spaccando Te sei una stronzo Ma quello lì mi lancerà Zero ricerca Non vale Eh vabbè Sei una sega Sei Vieni qua E niente Ciao Eh vaffanculo Moro Per forza Se non morivi da stronzo Eh io Adesso dobbiamo ricominciare Tutto il gioco Dobbiamo ricominciare Guarda lì Prologo devo rifare il prologo Niente alla fine Eh dai Ma veramente da qui Se vuoi rilcorro ti spacco la faccia Allora Non darmi le colpe Sei morto anche tu Ma te sei morto dal merda Sei morto Io stavo facendo Tu sei morto dal merda Sono morto per tirare su te Ma c'è una piazza qui Aspetta che mi tiri su Guardiano a terra Porca sega Mi tiri su Io sono morto per tirarti su prima Deficente Cos'è quella roba lì Quadcotter Ma questo qui c'è uno qui Qui di fianco Uccidiamolo Ma l'abbiamo ucciso anche prima Eh niente Mi sparano dall'altra parte Qui là ci penso io Ah sono duri questi Perché? Perché per il revolver È un po' lontanino Falle io c'ho il minuetto Che merda Altello Pugno della morte Ai che male Me l'ha dato più forte lui E che cazzi Oh oh Gatto sei morto? No Ti ho appena salvato il culo tantissimo Eh ma ho capito Tu sei duro Io sono poco duro Vieni qua Mezza sega Non ho capito cosa serve la mia V Dove leggo le info? La mia V Cosa fa la V? Eh fa Ah no io l'ho cambiata Eeeh Che cos'è? Vabbè la terza abilità Eeeh E io faccio questo Metto lo scudetto Della io E io invece faccio una roba intorno Fammi vedere Eh non posso che la sto caricando Ah qui Ah qui Ah i legionari Perché vivono su Marte Il pianeta di Roma Cosa? E si chiamano legionari Per questo motivo Marco è risolto Manca 4 minuti ne? Eh sto facendo il prologo Gatto Per la settima volta Perché te è sempre bello Figo da vedere tutto quanto Però noi stiamo facendo la stessa cosa Forza siamo morti Tu sei morto Siamo No Siamo Lo stregone cura dicono Pensa Per dire Ah ecco magari Cialiner Cialiner Porca troia Ma che cazzo serve la cura su Destiny Scusa A curare Ma che cazzo dici E che è vero Buon dottore grazie Buon dottore? Si chiama così Cosa vuol da me Ah si chiama proprio Buon dottore Beh Non è da disquisire adesso Non ti va bene Per me Se mi colpiscono Mi shottano Per forza Hai preso la classe merda Però minchia che danno Che faccio Però per togliere il tetano qui Dopo devo fare Ripremo Condivisione usb Il tetano Basta che stacchi l'usb In teoria si disattiva da solo No no si spegne tutto Si spegne Vabbè lo faccio lo stesso Per sicurezza Che non voglio avere problemi Geologici Che sicurezza Se scollegato al pc Sii Comunque a me non sta caricando Neanche così Morelli Fido i colpi No Ma la cazzine Tutto te l'ha fatte Ho fatto la cazzine Poi ho partito il caricamento Dove era prima E sta Ricaricando Allora vai tranqui zio Vado tranqui Tranqui Cazzo Ho messo Non pene Nella dentiera Eh adesso non ho più l'ulti Ovviamente Te l'ho io gatto Dai Guarda come vado qui Che merda di ulti è quella lì Sono l'angelo della muerte Eh vedo Non ne hai ucciso uno Non ho colpito nessuno Errore Morelli Che merda Marco Oh 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 Inculatevi Sono morto Te sei una merda Te sei una merda Sopravvivi Sopravvivi Ma allora sei uno stronzo Scusa Te sei una Qui non mi sei venuto a salvare Non mi sei venuto a salvare Qui oh Le ufficialmente provate tutte Niente Che caso Marco ti do il mio account Per forza Fa il cazzone Oh io Io rush Frega niente Eh frega niente Poi muori di merda Di nuovo E io per venirti a salvare Devo morire Guarda te Guarda 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 come cura Bestia Eh guarda come cura Ah Che rischio Cazzo Che danno da caduto Incredibile Guarda come non mi fa niente Qui dentro Eh Non glielo uccidevo io però Dai muoviti Coglione A me non mi faceva niente Ma dai Sto facendo una missione Oh la super Però così non carico la ulti Adesso datti una merda di mossa Che la ulti te la carico io Usando la mia Che quando uccido Dovrei lasciare fuori le palle Che tra di tina che hai Hai visto Molto breve È proprio Un piccolo pistolino Sai guarda E quello c'ho E c'ho la pistola che fa schifo L'importante è come lo usi comunque Gatto E vedo che lo stai usando molto bene E moro che è uno stronzo Mi sembra Io sono fortissimo Ma te che cazzo Tiri le granate Dove ci sono io Adesso mi spieghi Che sta dicendo Questo pazzo Scusa Non tiri le granate Che diventano viola No Ah Adesso ho le palle di fuoco Incendiarie Ah allora ok Qualcuno mi ha tirato una granata E giustamente mi ha fatto danno Che dolore Che dolore Cosa fa l'altro Cosa fa Si fa le pippe Si fa lo cittadino Ah ma mi overcarica Vieni qui Vieni qui Vengo qui e fai Che succede qui La cura Oh finalmente Niente è finita gatto Sei utile come un cazzo nel culo Appena sei arrivato Adesso figa moro Te li ho ammazzati tutti A parte che gli ho tirato Una palla di fuoco Che ne ho uccisi la metà Adesso con la tira La mia Ho finito le munizioni adesso Devo usare il mitrino Del cazzo Arrivo e do la pugna Ma che sborro Che immunità Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Eh ho dato un pugno a un muro Che sono le palle Che è qua Ci penso io gatto Ma ce n'è uno lì distante Dobbiamo rompere le trivelle Dai Bestia questo moro Buona Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rompere le trivelle Ah l'abbiamo già fatto qua L'abbiamo già fatto Dobbiamo andare dall'altra parte Andiamo Ditto che abbiamo fatto Abbiamo fatto Si vede che sapranno loro Di qua Segui me Non so abbiamo tempo Da buttare qui Guarda come prende danno Dal fuoco Della mia Del mio sole Buona Andiamo Andiamo alla trivella Adesso Che palle Un passo quello lì E se ne è andato Proprio dalle Maia ma mi ha schiacciato Una palla Perca troia Borro Eh ma ho capito Mi ha schiacciato la palla Vieni vieni Che ci tuffiamo Ah devo interagire Lo sfondo Eh Come nessuna munizione Ah ok E di qua Dobbiamo interagire in due Interagisci Aspetta che c'è questo qui Che dà fastidio Un attimo Vado a interagire io Sei buono neanche a toccare Non lo sai Allora interagisci Allora E quindi? Andiamo? Ma sono dei cazzi Sei sicuro? Ti fai male eh? Ah Ah Ma c'è del fuoco Ma che male Che male Saperne leggere Le scrive una granata Sempre e comunque Come sei a caricamento Ulti te? Eh quasi Non è? Non è Accendi la trivella Come giù? Ah Wow Che bello Guarda qui c'è Pacific Rim Tutto quanto Che c'è? Mi scusi? Oh questi qui sono Quelli che fanno bene alle mani Che male E aspetta Non c'ho la live Arrivo E non ho i colpi Non ho Oh Mamma mia Moro che pugna Che gli diedi Cos'è questo sole? Era tuo? Era il mio Ok È veramente il Pacific Rim Hai visto? Tutto proprio Quindi adesso ci dobbiamo Infilare nei buchi Interagisco Oriente al sistema di transito Giustamente Prima oriente E poi Mi fa ridere trivella Ripisto il sistema Dobbiamo aspettare Ci sono le percentuali Strano C'è un'orda su Destiny Non me la sarei mai aspettata Una roba del genere Tutto a posto? Eh eh Quanti 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 Di questi cosetti Penso io Finiti i colpi Di nuovo Finiti i colpi E palle Eh niente Sono morto Moro Mi spiace Ma mi devi tirar su È un attimo No no Anzi resisti 20 secondi Dai Scappa 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 Moro Scappa 20 19 18 7 No Pazzo Grazie Quanti cazzi Perché non riconosco I vivi dei morti Io sparo tutto qua Oh 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 Vieni via Vieni via Ma io c'ho la cura qui Ma bestia Eh no aspetti Ah che dolore al culo Non morire per carità Non ci voglio Scappa Scappa La schivata L'ho visto La schivata Metto questo Dai 15 secondi Dove sono? Eh ma quello lì c'è 9 Ti tiro? Eh non c'era bisogno ormai Non importa Cazzo Aspetta Bastardo Buona Dove dobbiamo andare mo? Non so Io attraverso la zona Ah qua c'è il buco Dobbiamo Tuffarci qui Eh non mi salta Eh come rosso Oh Eh no troppo basso Ahia che male Ma ti sei fatto malissimo Chi è che è una donna a urlare io Eh non ho capito Cosa dobbiamo fare con Mark Perché io sto aspettando il suo segnale Eh non lo so Ci di che no Ci di che no Adesso mi sono preso bene Voglio sapere come finisce qui la trama Delle trivelle Ma siete partiti Come? Cioè Eh no no Non lo so Sono sopra nella stanza 2 Ma io non lo so Ho capito gli Ezzar Ma con la live Con cosa? Perché se siete sopra Io non posso sapere Allora? Quelli lassù Quelli lassù Vaffanculo Andiamo Andiamo avanti Opla Ah quello là è uno grosso Facciamo il loop del prologo E si inculano Ostia Ah perché Mark Non ce l'ha fatta? Eh no Eh vabbè Allora non interrompiamo Ma gli ho detto Gli do i dati del mio account Gli do scusa piuttosto Sì Vabbè A questo punto Chiudiamo E lasciamo la linea Di termosifone Infatti un secondo Al TG5 W.TG5 Ammazzo questo E poi chiudiamo W.TG6 Sofitei Guarda le trivelle Ci sono Ci sono Vai vedi Chiudi con la visuale Sulle trivelle Che sono belle Rimuovi la trivella Come si fa? Dove tocco? Ehm Che devo fare qui? Webcam Ok Allora vi ringrazio tutti Per aver seguito fino a qui E mi dispiace Ci sono stati alcuni problemi Con i termos Adesso lascio a loro la linea Non si può tornare al desktop Al F4 dai Che bella idea Ehm Ci vediamo questa sera Con Quel gioco lì Che è Gigantic Grazie a tutti Buoni termosifoni Ciao Buonissimi Mmm Mmm Hmm.